Da un lato riscattare lo stop patito all'esordio, dall'altro provare a dare continuità al punto arrivato in occasione della prima di campionato. Termoli e Vasto Girardi si proiettano sulle rispettive prime gare interne, entrambe con calcio inizio domani alle ore 15, con queste volontà evidenti. Al Cannarsa, in una contesa che sarà disputata a porte chiuse, i giallorossi andranno a sfidare la matricola atletico Ascoli, che all'esordio ha imposto il pari in casa al Chieti. Intento dei Bassomolisani, quello di riscattare lo stop di Senigallia, dando vita ad una prova a tutta sostanza. A dirigere il confronto sarà un fischietto abruzzese, Mario Leone di Avezzano, con assistenti Benedetto Casale di Formia ed Emanuele Puccia di Frosinone. Al di Telle, invece, arriverà un'altra matricola, ma dal passato blasonato come il Sora. Squadra giovane di Corsa la definisce il trainer Giannone Celeste e Bifini, quei sociali che in settimana hanno anche rinforzato ulteriormente l'organico. Dalla loro, però, gli altomolisani punteranno a mantenere a zero la propria media inglese. Nel novelo di questa contesa, invece, a dirigere le operazioni, sarà l'abruzzese Guido Berrocchi di Sulmona, con assistenti maceratesi Alessandro Bara e Laura Gasparini.